Io sono partito dalle battiture a Civitella in Val di Chiana con il mio babbo che mi faceva salire sulla tavola quando la gente mangiava e c'erano tutti i contadini che io cantavo 24.000 bassi di Celentano e mi facevano l'applauso, per me era una condizione naturale. Enzo Ghinazzi in arte pupo ripercorre la sua aretinità e non nega il forte legame con la sua terra che lo ha visto nascere anche dal punto di vista artistico e poi cadere nel vuoto. Tutto è dentro questa città, è dentro la mia provincia, io ho fatto le scuole in questa città, sono nato vivo e sono residente da sempre in questa provincia a Ponticino ma mi sento appunto aretino. C'ho un cuore anche fiorentino perché sono tifoso della Fiorentina in maniera anomala quasi, però è chiaro che per me Arezzo è una scelta di vita totale che io ho fatto con gioia nei momenti magici, come dicevi prima usando questo aggettivo che mi piace molto, nei momenti magici del mio grande successo, della mia esplosione, nei momenti terribili, nei momenti drammatici di quando qui nelle scalinate del Tribunale di Arezzo in Piazza Grande, quando ancora il Tribunale era in Piazza Grande, io aspettavo le persone che si presentavano, poi non si è mai presentato nessuno, per comprare la mia casa di famiglia che era all'asta e quindi dove la mia dignità, tutto ciò che era stato d'immenso entorno a me si stava sgretolando e poi l'ho scelta anche per il ritorno perché oggi ciò che mi è accaduto credo sia abbastanza straordinario perché sono tornato in tutti i sensi ad essere anche meglio, dei momenti migliori di prima. Quindi questa città ha vissuto, l'ho vissuta, mi è stata accanto, mi ha criticato, mi ha amato, mi ha fatto tutto quello che si deve fare, ma io sono parte di questa città e quindi anch'io sono un aretino e ho tutti i pregi e i difetti degli aretini uguali. Una tappa quella aretina che si inserisce all'interno del cartellone voluto dalla Fondazione Guido d'Arezzo Anfiteatro sotto le stelle. L'Anfiteatro sotto molti aspetti è un luogo dove l'arte, anche quella più pop, si esprime e può esprimersi al massimo e spero che ad Arezzo il 5 agosto quando io farò questo concerto che celebra i 40 anni di su di noi spero che diventi, sì, che sia il luogo magico che è sempre, ma diventi anche un luogo di intrattenimento, di sorriso, di ricordo e anche un po' di buona nostalgia che io cercherò di creare come atmosfera attraverso le canzoni ma anche attraverso i video, i filmati, i racconti che farò in uno spettacolo già rodato che era già in tour mondiale che si è interrotto a causa della pandemia. Un'estate dunque ricca di musica, teatro e lirica che partirà il 23 di luglio e si chiuderà il 15 di settembre portando ad Arezzo nomi come Venicio Capossela, Daniele Silvestri e il baritono Mario Cassi. Sì, Mario Cassi che è stato interpellato su questo argomento è colui che poi ha trovato altri artisti che insieme a lui si esimiranno in quella serata e sarà una serata secondo me fantastica. Sapete quanto sono legato alla lirica, quindi non sto a tessere le lodi di questo punto, però è un nostro cantante a retino, importante, che si concede gratuitamente in un momento difficile come questo per un concerto lirico e quindi è una bellissima cosa. Il Mario Cassi and Friends per Arezzo che vedrà tra gli ospiti nomi internazionali come la soprano coreana Sumi Jo sarà anche uno spettacolo di solidarietà. Il 4 agosto e ci tengo molto, è un concerto in beneficenza per le vittime del Covid e che aiuterà lo sportello di Arezzo gestito, credo, con la Croce Rossa per aiutare tutte le persone che soffrono in questo momento, che sono tante. Quindi, come ho detto quattro anni fa, quando grazie alla generosità io misi la voce però gli aretini misero la beneficenza e vennero ad applaudire me e in contemporanea aiutarono tutti i concittadini che soffrivano. Quindi ci saranno dieci star dell'opera, veramente di tutto il mondo che per vederle si dovrebbe fare un biglietto per andare a New York magari, invece l'avrete a casa, ma abbiamo bisogno di voi, degli aretini che con il loro grande cuore renderanno la serata indimenticabile.